Gianmarco Schipani del Boiano, eccellenza ferma, siamo nelle festività tra Natale e Capodanno, vi siete comunque allenati? Sì, stiamo allenando dal 27, da dopo le feste, abbiamo fatto la settimana scorsa un paio di partite pre-natalizie e stiamo lavorando bene per tenerci pronti alla partita dell'otto che sarà una partita molto importante. Contro il Castel di Sangro, avete vinto l'ultima contro un Gambatesa che è apparso redivivo rispetto a quello che ha fatto nel girone di andata. Sì, sì, un Gambatesa che è stato molto tosto, combattivo, con ragazzi nuovi da quello che dicevano in settimana e noi infatti ci aspettavamo una partita difficile sicuramente, però abbiamo combattuto e abbiamo tenuto stretto quello che è il risultato che è stato fondamentale. C'è una lotta in vetta al campionato tra Campobasso e Isernia, due punti separano queste battistrata, l'Aurora Alto Casertano è più distaccata. Come la vedi a distanza? A distanza vedo un Campobasso che a mio parere è più forte, un Isernia che comunque si è rinforzata con l'acquisto anche di Filippo Davanti. Sarà una bella battaglia fino alla fine, però ovviamente non dovrei dirlo, però da Campobasso spero che alla fine vinca il lupo. Il terreno di gioco di Boiano dalle immagini televisive appare molto molto migliorato, senz'altro più verde. È così o è solo un'impressione la nostra? No, no, è così. Stanno facendo degli ottimi lavori i custodi che stanno lavorando lì al campo, che stanno aggiustando il campo, tagliano, lo rullano da inizio stagione. Quanto è possibile? Cerchiamo anche di non allenarci sul campo, allenandoci al campo adiacente al Colalillo. Però è nettamente migliorato rispetto agli anni passati, anzi speriamo che possa continuare ancora così. Senti, 20 punti nel girone di andata, ne avete discusso? Un bilancio positivo oppure potevate avere qualche punto in più secondo te? Guarda, ne abbiamo parlato tanto. Secondo me il valore della Rosa dice poco su questa classifica, perché secondo me meritiamo nettamente più punti. Ovviamente cercheremo di fare quello che è un grande girone di torno per provare a toglierci anche quelle che sono belle soddisfazioni, anche perché la Rosa è giovane e forte e non merita assolutamente questa classifica. Va bene, allora auguri certamente di buone feste, di un buon inizio 2023 per il Boiano. Quando tornerete ad allenarvi? Innanzitutto colgo l'occasione per fare quelli che sono gli auguri di buone feste a tutti quanti e noi torneremo a allenarci oggi, domani che faremo una piccola amichevole e poi settimana prossima dal 2 faremo fino a tutti i giorni, fino a quello che ci porterà alla partita dell'otto.